Buongiorno a tutti, come sempre buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Allora, oggi volevo farti una domanda. Posso farti una domanda? Da padre a figlio? Per la sera, dopo che vai a letto, nel tuo letto, io mi ritrovo verso le quattro. Che sei lì dentro il mio? Mi piace, mi piace stare con papà. Ho capito, ma sei grande. Mi piace, mi piace stare con papà. Volevo farti un'ultima domanda per oggi. Abbiamo pubblicato troppe storie in questi giorni. Il 14 inizia la scuola? Lo so. Sei contento? Sì. Ma quando i tuoi compagni si vedranno alto 1,95 per 100 kg di muscoli, cosa faranno con la barba? Ma niente, sono, diranno, Carlos, è cambiato, basta. Certo. Un po' cambiato? Voglio tornare alla scuola? Certo. Che per favore, per favore, riaprite le scuole. Riaprite le scuole. Il primo obiettivo per questo paese è riaprite le scuole. Vero, Carlos? Se ci fate un c***o di favore saremmo grati. Grazie. Grazie. Grazie.